Ciao a tutti! Oggi prepareremo le focaccine alle patate e origano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono semola di grano duro rimacinata, patate lesse fredde, sale, origano e olio. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le patate, la semola, l'olio, l'origano, e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 5 minuti in modalità spiga. Trasferire il composto su un piano di lavoro infarinato e compattarlo con le mani. Spolverizzare anche la superficie con un po' di farina. e stendere con il mattarello formando un rettangolo, alto circa mezzo centimetro. Con l'aiuto di un coppapasta ritagliamo le nostre focaccine. e friggerle in abbondante olio caldo. Focaccine alle patate e origano. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!